Oggi vi vado a presentare un video in collaborazione con la mia tesorina Ingridina Vi lascio nell'info box il suo canale così almeno lo potete aggiungere Andare da lei, iscrivervi e tutto perché lei è veramente bravissima, è simpaticissima, è dolce, è una brava ragazza Tutto, quindi mi raccomando iscrivetevi al suo canale E vi andiamo a presentare un video con i colori trendy di moda che vanno nel periodo di autunno-inverno 2020-2021 Quest'anno vanno molto i colori tendenti al rosso o al naturale o comunque rosso-viola sulle labbra Colori molto il fuoco, va di moda il fuoco quest'anno, il rosso Qui nel video così sembra più arancione In realtà anche le labbra sono in Red 2000 dell'Avon quindi è un bellissimo rosso Quindi non capisco come mai il video mi storpia il colore, anche negli occhi c'è il rosso Però comunque il risultato finale del mio make-up è questo qui Spero che il video vi piacerà Mi raccomando andate anche dalla mia amica a vedere il video di come lei realizzerà il trucco Perché noi due siamo diversi, ognuno realizza il trucco a modo suo Io l'ho realizzato a modo mio e lei lo realizzerà a modo suo Quindi sono interessanti tutte le versioni, mi raccomando andatelo a vedere Io vi auguro a tutta una buona giornata Spero che il video vi piacerà e vi lascio al video Un bacio Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.